Moni Ovadia, ben trovato. Luca, buonasera. Ben trovato. Grazie, grazie dell'invito. Allora, Moni, tu sei un intellettuale, sei un ebreo, parli a titolo personale. Sì, come militante e attivista per i diritti, non ho legami con nessun partito, nessuna organizzazione. Sei stato spesso critico sulle scelte del governo di Israele. Da oltre quattro decenni almeno. Esatto. Cosa poteva fare di diverso Israele dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre? Rendersi conto che il governo Netanyahu aveva esasperato la situazione oltre ogni misura e anche se l'uccisione selvaggia di civili non si può giustificare mai, però chi solo conosca un poco la condizione in cui si vive a Gaza, che è un lager messo nell'inferno. E allora questo tipo di odio sconsiderato può germinare. Però tanti dicono che Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente, mentre dalle altre parti ci sono terroristi e fanatismo islamico. Che Israele sia una democrazia è una sciocchezza. Una democrazia non colonizza e non occupa terre di altri, dalla bellezza di 56 anni in Cegiordania e da 75 anni a Gaza. Del resto il vizio è originale, lo slogan sionista è sempre stato una terra senza popolo per un popolo senza terra. Invece lì un popolo c'era. Che effetto ti fa vedere che denunciano l'antisemitismo coloro che non si sono ancora sganciati dalla cultura fascista? Ma vedi, solo Adolf Hitler credeva che gli ebrei fossero diversi dagli altri. Gli ebrei sono uomini come tutti gli altri, sono trovati in una terra loro, hanno scatenato un nazionalismo fuoribondo e adesso a Israele non interessa chi è antisemita, ma chi è antisionista. Se è antisemita ci si passa sopra. Infatti io ho visto manifestazioni sostenitori del Trump con le fiacole gridare lo slogan, the Jews will not replace us. Gli ebrei non ci sostituiranno. Il grande mostro è il grande magnate ebreo di antisemitismo vero, Soros che vuole spostare i popoli, anche i nostri, dalla destra italiana. Questo è antisemitismo. Io ci tengo molto al mio ebraismo e mi possono dire quello che vogliono, però io dall'ebraismo ho imparato che si sta con l'oppresso, mai con l'oppressore in nessun caso. Grazie Moni. Torno in studio. Grazie. Grazie.